A seguito dell'ispezione avvenuta nel carcere di Castroni a Teramo da parte di Giulio Sottanelli, il parlamentare abruzzese ha espresso il suo profondo shock per le condizioni riscontrate all'interno dell'istituto penitenziario. La visita, motivata dal recente caso di un giovane detenuto che si è tolto la vita, ha rivelato una realtà sconcertante. Sono scioccato perché ho visto i numeri e ho visto anche alcune condizioni. Riguardo le condizioni, vedere due bambini di 4 mesi, di 18 mesi, dentro delle celle insieme a tutte le altre detenute, quando io ho visto con i miei occhi circa 8 anni fa, quando l'allora direttore del carcere fece una sezione dedicata, specifica per consentire alle mamme di avere i bambini in posti diversi. Questa sezione non è stata mai aperta e quindi vedere due bambini lì dentro è un colpo al cuore. Detto ciò, la cosa grave che ho riscontrato e che quindi provvederò nelle prossime ore ad informare chi di competenza, che rispetto all'interrogazione fatta a novembre 2022, la situazione è peggiorata. Sottanelli durante la sua visita, accompagnato da Libera D'Amelio del direttivo di azione, ha anche evidenziato un problema strutturale, un sopraffollamento dei detenuti del 75% oltre la capienza regolamentare e una carenza del 25% di agenti di custodia. Sul personale c'è una parentesi molto grave, cioè che hanno più di 12.000 giorni di ferie arretrate, hanno circa 50-60.000 ore di straordinario che sono obbligate a fare perché ovviamente non riescono a coprire i turni e dare quel servizio e quella vigilanza che serve all'interno del carcere. E quindi il DAP dovrà rispondere di tutto quanto questo e quello che farò nelle prossime ore perché qui dentro, anziché diventare una istituzione che prova a recuperare le persone, qui dentro sta diventando un anger di persone che vengono a morire e per chi ci lavora delle condizioni da terzo mondo.